Dimenticata la pesante cappotta della prima giornata, 2 a 1 in po... come scusami? Cappotta, parlo e ti voglio bene. Comunque gran bella vittoria 2 a 1 contro i Dozer, vedo che siete molti eforici di questa bella vittoria, protagonista sicuramente è caluso, gol decisivo è suo, comunque tutta la scuola... Vabbè si è sta equilibrata la partita, solo che abbiamo avuto il colpo di genio e abbiamo vinto questa partita, e comunque poteva anche finire di più, poteva finire il parente, però è finita così e ce ne freghiamo. E ci sta, poteva finire con 11 a 0 per ricordare, mi sono avvenzato. Anche 600. Si può dire che il campionato inizia da adesso? Sì, 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 assolutamente. Vedremo di... Prontima partita prossima! Viviamo alla giornata! Caruso, lasciatevi stucco signorino sul tuo collo, che in panchina ne ha dette tutti i colori. Certo, ma te mi affanculo! Va bene, agli altri vogliono aggiungere qualcos'altro, Adamo, Navarra... Speriamo di continuare così. Dai, la prossima, con chi è la prossima? Adesso sapete che si gioca di martedì e avete il derby, il derby di Strasbourg, che tra l'altro sono molto arrabbiati, perché gli hanno perso. E vedremo di farli arrabbiare di più. Addirittura. Adesso, tu sei sicuramente l'ex di lusso di questa partita, vuoi lanciare un messaggio? Se il segno non esulta, se il segno non esulta, gli altri su questa partita... No, esultiamo, 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 esultiamo. Va bene, ragazzi, allora, complimenti per oggi, volete dire migliore in campo chi è stato tra di voi? Forza, è decisivo. Vabbè, tutti i bravi, però... Incorpora e caruso. Ok ragazzi, allora ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao.